Era accusato di aver ucciso la moglie Maria Arcangela Turturro, prima avendo dato fuoco alla macchina in cui viaggiava e poi fratturandole lo sterno a mani nude. Questa notte Giuseppe Lacarpia, 65enne di Gravina, si è tolto la vita in carcere. L'uomo sarebbe stato trovato dagli agenti della polizia penitenziaria, nascosto sotto le coperte nella sua cella. Stando alle prime informazioni raccolte, Lacarpia si sarebbe suicidato utilizzando una busta di plastica nera avvolta intorno alla testa. L'uomo dunque potrebbe essere morto attorno all'alba per soffocamento. Lacarpia proprio ieri aveva chiesto e ottenuto il permesso di fare visita alla moglie al cimitero di Gravina. La sua salma ora è sotto sequestro nel carcere di Bari. Il 65enne di Gravina era accusato di omicidio volontario, aggravato da legame di parentela e premeditato della moglie Maria Arcangela Turturro, di 60 anni. I fatti risalgono alla notte, tra sabato 5 e domenica 6 ottobre, quando Lacarpia avrebbe prima dato fuoco alla macchina mentre la moglie era ancora all'interno e poi quando la donna ha provato a fuggire l'avrebbe immobilizzata a terra causando le fratture alle gambe e al torace. La donna è poi morta nell'ospedale di Altamura in cui era stata trasportata. Il GIP nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare aveva rilevato il pericolo di reiterazione del reato, dovendosi ritenere, in base alle circostanze del fatto, che l'indagato sia soggetto estremamente pericoloso poiché è violento, calcolatore e privo di ogni inibizione. Per Lacarpia era stata disposta la carcerazione per contenere la libertà di movimento dell'indagato al fine di allontanarlo dai familiari e prevenire ulteriori manifestazioni delittuose. Grazie a tutti.